www.feyyaz.com Due, 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 dame! Due! Due! Due, due, due! Due, due! Vai in vino! Vai in vino! Eeeeeee! Nocchi non chiamo! Vai! Due! Due, 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 due! No, no, ma tanto no! Fatti un set! Così, guarda! Guarda che scena! Guarda che scena! Ma che bello! Le faccio stretching! Gambe su! Un po' meno su! Verona! Il più bello di tutti! Direzione pranzo! Eh ragazzi! I conquilini! Ma che capello che c'hai! Bellissimo! Questo è il buffet! Ora mangiamo! Eccoci qua! Pronti per andare a riposare! E andare a mangiare alle bestie! Eccoci qua! Il cibo è qui! Pronti all'attacco! Ciao cagnoline! Piano! Piano! Per vedere il pupazzo! Che pazze! Monster block! Monster block! Guarda che mi metti bene le mani! Allora io mi vorrei riposare un attimo però eh! Va riposino! E poi si va alla partita! Pronti eleganti per andare a giocare a pallavolo! Via! Sto aspettando il mio passaggio del nostro palleggiatore! Ciao grande! Devi salutarmi bene oggi che ti sto filmando! Eccoci qua! Arrivati al palazzetto! Eccoci qua! Carichi pronti per questa semifinale! Occi circa! Che pazation режino! Mochi paguni pensando没事 odi! Chi-unchi come noi! Chi-cha! Con smell carve dei pod examinei non può perdere! Gi-cha! Chi-cha! Core- Chi-cha! 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 Che paz H- advocacy chi-chan! Chi-cha-iene riduce il loro istiautico che ti quattro! Chi-chan�! Chi-cha! Grazie a tutti. Grazie a tutti.